Os 2023 continua, ci troviamo allo stand di Moac Holding Group, la torrefazione che ha sede a Modica in provincia di Ragusa e siamo in compagnia di Giuseppe Moncino, il direttore commerciale Italia. È un gran piacere accoglierti per la prima volta dinanzi ai nostri microfoni. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno e grazie a voi sempre di darci questa importanza e questa opportunità di esprimerci. Moac cresce anno dopo anno con le sue acquisizioni, con le sue innovazioni, con le tante novità che abbiamo modo di apprendere nel corso di manifestazioni fieristiche. E qui a Os 2023 quali sono le novità di Moac? Allora una novità importante che per la seconda edizione ci presentiamo comunque come gruppo, come Holding Group con tutti i nostri marchi, Circi, Marsalimo, Caffè e un gruppo di servizio che è vero Gaudio. Le novità più importanti sono tutte le linee, abbiamo rinnovato tutta la linea di comunicazione, abbiamo suddiviso su due aree l'area di comunicazione premium, decisamente più pop e una top, decisamente più istituzionale. Stiamo presentando la campana, è una campana fatta, sono progetti nostri, messa su un bacino addosatore che sicuramente ci condistinguono comunque sul mercato. Sono campane elegantissime, in particolar modo proprio quelle che nei scorsi minuti stavate guardando sono di colore grigio, di colore bianco avorio con la scritta in oro o nera o rusa, insomma è davvero bello da vederci. Grazie al nostro marketing ci distinguiamo sempre sul mercato che è sempre di più un mercato non solo competitivo ma sempre più camaleontico. È un mercato che necessita comunque di apportare delle novità ma non solo in termini di qualità ma anche in termini di comunicazione. Abbiamo la fortuna di avere una sezione interna dei colleghi straordinari che lavorano anche sotto questo profilo motivo per cui apportiamo costantemente quelle novità giuste che ci mettono comunque nelle condizioni di fare sempre un buon lavoro. Diciamo anche che il prodotto che andate a realizzare proponendolo attraverso tutti i vostri bar associati, i concessionari e così via è un prodotto assolutamente eccellente dal quale si evince che la materia prima utilizzata è davvero di altissima qualità. Abbiamo sempre detto che fare una buona qualità non è più sufficiente. Le nuove scommesse ovviamente grazie a un prodotto agricolo si giocano anche su tanti altri fronti. Noi siamo abbastanza critici con noi stessi sia sotto l'aspetto qualitativo ma anche nei servizi e soprattutto anche nella comunicazione. Motivo per cui le scommesse anno dopo anno e la responsabilità che ci prendiamo con il nostro mercato è proprio quello comunque di dare quel quid in più che ci consente comunque di fare bene il nostro lavoro. E allora assaggiamolo. Questa volta è il momento giusto per riuscire ad avere un buon caffè Moac Giuseppe. Preleviamoli. Eccolo qui. Il nostro Francesco ci ha preparato due special bar. È una buonissima miscela, fa parte della nostra linea top ed è una miscela prevalentemente 100% arabico. Eccolo qui. Allora amici noi andiamo, noi proseguiamo con le nostre interviste non prima di aver assaggiato e gustato un eccellente caffè Moac. Giuseppe grazie. Grazie a voi e ci rivediamo sicuramente il prossimo anno, fra due anni all'osto e ci vedremo con Gassigep a gennaio. A presto. Grazie. Grazie.